Alessio Prattasi, mister del Modesto Domo, oggi partitone tirato, ce lo racconterà lui. Sì, una bella partita, specialmente il primo tempo equilibrato, e poi al secondo tempo noi siamo un pelo calati fisicamente e loro sono venuti fuori. Si vede che sono una bella squadra allenata e forte. Il bilancio dei risultati di quest'anno è più che positivo, secondo posto in campionato. Secondo posto, la quarta finale che ci giochiamo della nostra storia, da quando siamo al CSI, più che soddisfatti. Ne abbiamo provato anche a vincere la finale, ma merito l'avversario che si è dimostrato più forte. Ragazzi, allora in bocca al lupo per l'anno prossimo. Sì, costruiremo la squadra sempre per far bene, specialmente ai playoffari, per provare ad arrivare al più in fondo possibile.